Sono pazzesca ma devo dire che oggi Sherwood mi ha dato un'energia speciale quindi sento pazzesca ma anche topperia di quella vera. Nel mio mondo ideale la parola, il verbo dovere non esiste, dovrebbe essere un verbo volere. Non ci si dovrebbe trasferire a Milano per cercare la propria libertà. Purtroppo a volte bisogna fuggire. Mi rendo conto che molte persone sono a Milano anche perché sono fuggite magari da situazioni un po' di chiusura in cui si sentivano poco liberi, si sentivano poco liberi di esprimersi e di essere se stessi. Sicuramente io a Milano ho trovato nell'ambiente diciamo creativo o nell'ambiente della nightlife queer un safe space dove mi sono sentita da sempre libera di esprimermi e di essere me stessa. È uno spazio che dovremmo avere tutti indipendentemente dalla città in cui viviamo. Purtroppo sappiamo che non è così. Devo dire che a Milano essendoci una nightlife queer veramente sviluppata spesso questa libertà è più nell'aria e in altri posti bisogna veramente conquistarsela a furia di gomitate questa libertà. Però spero che Milano sia un buon esempio, un buon diciamo un pochino il primo posto da cui questo contagio queer può spargersi per tutta Italia. Questo è quello che mi auguro. Andare a minare il campo familiare, andare a minare il campo personale, andare a minare il campo intimo secondo me è un sopruso ed è una violenza e questo non dovrebbe assolutamente accadere. Diciamo che in particolare in questo tour estivo sento l'esigenza di ribadire questi concetti ancora in maniera più forte e di ribadire il fatto che i diritti che noi abbiamo purtroppo non sono diritti che dobbiamo ritenere conquistati per sempre ma su cui dobbiamo sempre lottare e stare allerta. Non dovrebbe essere così in un mondo ideale, in questo mondo di oggi è così e secondo me quest'anno in particolare, quest'estate in particolare ci sono questi momenti anche di condivisione come i concerti o come appunto anche questi momenti di divertimento ludici che secondo me possono essere momenti potenti per prendere coscienza anche della nostra collettività, per prendere coscienza di quanti siamo a pensarla in un certo modo, per prendere coscienza della forza anche della collettività perché spesso quando queste violenze o questi soprusi arrivano ci si sente soli, ci si sente separati dal resto del mondo, invece siamo in tanti, siamo in tanti e dobbiamo fare fronte comune contro ogni tipo di violenza. Io ho avuto la fortuna, ma in realtà me la sono anche un po' conquistata, devo dirti la verità, di passare a una major quando avevo già una personalità artistica e una personalità in generale formata o semi formata, nel senso che grazie anche alla tempesta, grazie al periodo indipendente prima, proprio eravamo completamente slegati, proprio cavalli selvatici, poi abbiamo incontrato la tempesta, diciamo che questi primi due periodi ci hanno fatto fare le ossa e ci hanno fatto capire veramente la nostra direzione e quello che volevamo realmente fare e come volevamo essere, ovvero decidere noi per noi, per le nostre cose. Diciamo che io col progetto di ho dimesso anche la fortuna esagerata di avere un collettivo di persone che con me lavora al progetto, quindi quando viene creata una canzone, quando viene creato un testo, quando anche semplicemente inizia un tour, c'è proprio tutto un lavoro di immaginario, c'è un lavoro condiviso su come deve essere quel tour, su che cosa vogliamo comunicare. Diciamo che ho, avendo questa forza di lavorare con tante persone, riesco ad avere, diciamo, una presa e visione su tanti lati del progetto, non solo quello puramente musicale, ma anche su quello dell'immaginario, su quello del messaggio. E secondo me questa forza, se anche tu entri in una measure, è una forza che ti permette di essere sempre un pochino una giocatrice un pochino laterale, nel senso che comunque, diciamo che non avendo necessità di creare tutto l'intorno, perché lo fai già internamente, nel senso che non avendo necessità magari di avere delle idee per il video, delle idee per il sound, delle idee esterne, diciamo che Universal ci ha sempre preso un pochino per quello che è Miss, cioè un progetto collettivo che ha le sue idee ben chiare e non credo che poteva fare altrimenti. Quindi secondo me la measure è un passaggio che ti fa fare dei salti da tantissimi punti di vista. Il mio consiglio è arrivare in una measure quando hai già le gambe salde, quando sei già ben sostenuta a livello di progetto, sai bene la direzione che vuoi prendere e hai le idee abbastanza chiare. Questo è il mio consiglio, perché altrimenti può essere magari straniante o può farti, può crearti confusione mentale. Ecco, quindi per me gli anni alla tempesta sono serviti proprio per capire quello che volevo realmente fare e quali fossero i miei bisogni. Ragazzi un bacio, ciao Servood!